Il programma ha previsto solo una seduta di allenamento al giorno, è servito per recuperare un po' la condizione fisica? Normale per la tenuta, ma più che altro per il lavoro tattico, perché la squadra per molti su molti uomini è rinnovata, bisogna mettere anche di noi arrivati delle idee, dei concetti che avevamo già fatto in preparazione, che purtroppo per il cambio di categoria sono stati più tempo persi che non altri. Domenica si affronta una partita insidiosa contro una squadra che comunque ha più o meno gli stessi problemi dell'Andrea, partenza difficile, partita che si affronta con tre mancanze in difesa, ha già individuato le alternative e possibili soluzioni? Sì, abbiamo diversi giocatori, certamente non ci dà un grandissimo imbarazzo della scelta, però insomma dobbiamo fare di necessità virtù, la squadra si sta preparando bene, perciò sono abbastanza fiducioso. Ecco, lei ha scelto di intraprendere il 4-3-3 come modulo base per la squadra, anche se in attesa della preparazione migliore, magari potrebbe pensare a optare qualcos'altro, qualche altra idea? Siamo provando diverse idee, adesso stiamo ricominciando da capo, proprio perché ci sono i nuovi, poi alla fine la squadra non è che ha fatto schifo con il 4-3, non ha avuto la fortuna necessaria, certamente lunedì con il Foggi abbiamo girato sotto l'anno rispetto alle altre prestazioni, ma questo può capitare, certamente dispiace perché comunque c'era un grande pubblico, erano dei tifosi che ci tenevano tanto, noi ci tenevamo tanto, capita da una prestazione al di sotto delle nostre possibilità. D'accordo, grazie. 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 Grazie.